contro i tagli. 25 banchetti davanti ad altrettante scuole in città e provincia da domani a sabato 18. È il calendario della mobilitazione del PD che nella giornata di venerdì conterà anche sull'appoggio dei parlamentari piacentini per sostenere la protesta contro i tagli alla scuola pubblica. Durante i presidi verrà anche distribuito un kit di sopravvivenza con cartigienica e materiali di cancelleria per sottolineare che ormai le casse sono vuote. Tutti i genitori hanno sperimentato in questi giorni quello che è un dato ormai eclatante. Bisogna portarsi a scuola la carta per le fotocopiatrici, la carta igienica, contribuire alle spese di gestione degli istituti con delle collette fatte fra i genitori. Quindi noi vogliamo simbolicamente consegneremo alle scuole piacentine un kit di sopravvivenza che presentiamo oggi alla stampa nel quale sono contenuti questi prodotti di uso comune che in un paese normale dovrebbero essere forniti dalla scuola. Lasciamo l'ampia pagina dedicata alla scuola e occupiamoci delle persone in difficoltà economica. Grazie.